Posizionati in piedi vicino al muro e prendi le misure come vedi nel video. Da questa posizione porta il ginocchio a toccare la parete senza staccare il tallone da terra. Ritorna poi nella posizione di partenza. Una volta che porti il ginocchio a toccare il muro, tieni la posizione per almeno due secondi prima di ritornare nella posizione iniziale. Grazie a tutti.